Non ha senso oggi fare la TAVA, non ce l'aveva neanche ieri, anche se oggi la TAVA è stata ridimensionata perché dal progetto originale di 23 miliardi si è passati a quello di adesso che comprende la sola ferrovia tra l'Italia, il solo tunnel tra Italia e Francia di 8 miliardi e mezzo, di cui l'Italia pagherà probabilmente 3 miliardi e mezzo o 4 e mezzo. Le previsioni in passato dicevano che il traffico merci sarebbe aumentato esponenzialmente, in realtà si è dimezzato, 10 anni fa era 10 milioni di tonnellate, adesso 4 milioni, quindi questa domanda semplicemente non c'è, la TAVA è enormemente sovradimensionata, quella attuale basta e avanza. Per i passeggeri il traffico passeggeri è minimo e in ogni caso si risparmia un'ora con il nuovo progetto, in più si parla anche del risparmio in termini di inquinamento, ma ci si dimentica che l'inquinamento di cantiere dovuto alla costruzione della TAV sarà enorme e anche ignorando questo i conti che sono stati fatti che diminuirà l'inquinamento dell'1% in Piemonte. In Francia come in Italia è chiaro che l'unico motivo per cui adesso si va avanti a fare la TAV ci si è intestardito in questo progetto è politico e purtroppo più i no TAV protestano e più violentemente protestano, meno il governo sarà disposto a cedere, a questo punto c'è un muro contro muro, il governo non può fare, non può mostrare di cedere davanti ai no TAV, anche se io so per certo che molti politici, sia piemontesi sia nazionali, avendo visto i dati si sono resi conto che da un punto di vista economico con la TAV non ha senso. Andremo avanti nei giorni prossimi a elencare le buone ragioni per mettere in discussione la realizzazione di quest'opera.